che corrono normalmente, ci sono anche quelli che corrono all'indietro, e cioè i retro running, sono tutti schierati, vedete Di Giulio che è il riminese che pratica questa specialità da parecchio tempo, sono osservati dai colleghi della 10.000 in avanti, eccoli qua, sono partiti e stanno andando a compiere lo stesso percorso che è riservato alla 10.000 metri ufficiali, intanto stanno per partire anche i big, vedete Bruget, Vittori, Ugo Moroni, sono tutti pronti per inseguire i retro running, naturalmente correndolo indietro si va più piano, abbiamo visto che Fosc e poi Maurizio Casadei, e sono partiti con circa 5 minuti di vantaggio su quelli che vedremo partire tra qualche istante, vedete sono numerosi, erano 1103 i concorrenti, divisi nelle varie specialità, tra i bambini, il retro running e il gattonamento, quindi un buon numero, favoriti anche da questa mattinata di sole che poi nel pomeriggio si è trasformato nuovamente in una giornata invernale, comunque è andato tutto bene fino al termine, neanche una goccia di pioggia, esattamente il contrario di quel che aveva fatto pensare la vigilia piena di pioggia, intanto siamo a 2 km della partenza, sta transitando il primo è Capotosti, un romano che aveva vinto anche l'anno scorso e arriva anche il primo dei retro running, ormai è stato raggiunto dai più forti della gara podistica, mentre in seconda posizione transita Di Giulio, ecco infatti Di Giulio che sta transitando davanti la nostra postazione, per primo era transitato Maurizio Franceschi che andrà a vincere poi tranquillamente, mentre Di Giulio dovrà condentarsi della terza posizione perché alla fine è stato superato da un altro concorrente. Per quel che riguarda la 10.000 competitiva invece al primo posto è transitato, lo abbiamo detto prima, Capotosti, l'atleta romano, vincitore anche lo scorso anno, aveva alle sue spalle Francesco Vittori e Stefano Ridolfi, poi via via Roberto Giorgetti, Ugo Moroni, Roberto Brugè, tutti all'inseguimento dell'atleta romano. Vedete qualche nuvola spunta già all'orizzonte, mentre superiamo Torsani e Giorgetti, ecco superiamo anche Stefano Ridolfi, l'atleta sanmarinese che corre per la Gabbi e Francesco Vittori del Golden Club di Rimini. Tra un po' ci fermeremo, ecco stiamo superando Capotosti, ormai lanciato con un netto margine di vantaggio quando siamo ancora a circa 4 km dalla partenza, quindi ancora neanche a metà gara e Capotosti conduce già nettamente questa competizione. Eccolo transitare, abbiamo visto secondo Francesco Vittori, al terzo posto Stefano Ridolfi, poi Giorgetti con Gatti e poi Massimo Torsani, ma via via tutti gli altri, poi abbiamo visto Moreno Martinini, Alessandro Tonini, Valerio Vincenzi, Livio Marcomini, Maurizio Casadei. Ecco intanto si sta avvicinando un gruppetto che comprende Gigliola Borghini che è al comando della gara femminile Giuliana Borghini, Gigliola Borghini, riminese che corre per l'atletica Re Canati. In seconda posizione, un altro concorrente del retro running, in seconda posizione è transitata l'atleta dell'Ice Lugo, la Greppi, eccola qua che l'abbiamo vista passare in questo momento. In gara c'era anche Pasquale Di Molfetta, il popolare DJ e Linus che si può dire non manca mai alle competizioni podistiche riminesi e in particolar modo a quelle organizzate da Gianni Scheratore. Intanto transita anche Manuela Berardi che è, se non sbaglio, in quarta posizione per quel che riguarda la gara femminile. Intanto abbiamo visto transitare Luana Leardini e Susi Frisoni, per queste due si sbagliata di un gradito ritorno, ma prima di loro erano transitate dopo la Gigliola Borghini e la Greppi, erano transitate Enrica Buttinelli della Colle Ferro, quindi Magdalena Visnesca, l'Atletico 85 Faenza e Manuela Berardi che l'abbiamo nominata prima. Erano parecchie le donne in gara, infatti hanno, vedete, ne sta transitando una anche in questo momento, quindi una bella partecipazione anche al femminile per quel che riguarda questa undicesimo Golden Fest, ricordo che stiamo assistendo alla gara competitiva dei 10.000 metri. Ormai stanno transitando gli atleti che occupano le ultime posizioni, sono parecchie ancora comunque, ho detto prima 1.103 i concorrenti, circa 200 i competitivi, quindi un bel numero, ecco qui c'è stata anche un'altra novità perché la gara dei competitivi è partita dopo che erano partiti tutti i non competitivi, intanto avete visto Thea Lombardi e passa anche la Luigina che ha nelle gambe ancora la fatica del gattonamento, l'avete vista gareggiare anche nella gara di gattonamento. Ecco qui siamo nel punto in cui i concorrenti ritornano davanti alla nostra prestazione dopo aver percorso un giro di qualche chilometro, qui siamo a 3 km dall'arrivo, è transitato per primo Capotosti seguito da Francesco Vittori, Francesco Vittori del Golden Club di Rimini, terza posizione passa Stefano Ridolfi ed ecco qui siamo all'arrivo per vedere la vittoria di Capotosti che vedete anche il tempo di farsi accompagnare dai figli e in seconda posizione Francesco Vittori, terzo Stefano Ridolfi, le posizioni sono le stesse che avevamo visto all'ultima postazione, ecco è passato anche Giorgetti, poi Ugo Moroni e con Ugo Moroni Roberto Bruget, poi Martinini, Cico Martinini, Alessandro Sgatti, poi Alessandro Tonini, quindi Valerio Vincenzi, poi vediamo all'arrivo anche Marco Minni, Massimo Torsani, poi Pasquinelli, Maurizio Biondini, ecco Lorenzo Fosca, Paolo Valmori, eccolo sul traguardo, poi vediamo anche Alberto Vittali, Giorg Wagner, Gabriele Narducci, poi arriva Pierluigi Dell'Era, quindi Gianluigi Macina, San Marinese, anche lui corre per la Gabbi, dopo...